Questa mattina all'alba un uomo di 50 anni di nazionalità rumena è stato ritrovato cadavere su un marciapiede riviale Aldomoro, angolo via Giuseppe Di Vittorio a Brindisi. Non è ancora nota la causa del decesso per la quale è stata disposta l'autopsia da parte del magistrato di turno Pierpaolo Mantinaro intervenuto sul posto. Ma quasi sicuramente il rumeno sarebbe morto per cause naturali. Operario in un'azienda locale del fotovoltaico, anche questa mattina l'uomo si era alzato di buon'ora e lì in viale Aldomoro pare stesse attendendo un collega, suo amico, per raggiungere assieme il posto di lavoro. Ma il rumeno si sarebbe accasciato al suolo senza neppure poter chiedere aiuto. Il suo corpo è stato notato da un passante che ha dato l'allarme chiamando l'ambulanza del 118. Purtroppo, una volta sul posto, i medici non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Sono intervenuti inoltre la polizia scientifica e le volanti della questura di Brindisi.